Ci troviamo a Firenze presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale dove si è svolta appunto l'Assemblea dei Docenti e a questo incontro ha partecipato Don Valentino Bulgarelli che è responsabile appunto della CEI per le Facoltà Teologiche per gli Istituti Superiore di Scienze Religiose che ha avuto modo appunto di presentare anche quelle che sono prospettive e progetti che si aprono per realtà accademiche di questo genere. Mai come oggi abbiamo proprio bisogno di questi luoghi, facoltà, istituti affiliati, aggregati, istituti superiore di scienze religiose che si riappropriano un po' non semplicemente della pura accademia teologica ma veramente di rimettere in circolo questa felice connessione tra la riflessione e la vita. Io sono sempre del parere che un'ottima teologia genera una buona pastorale, una pessima teologia genera confusione. La vita pastorale illumina la riflessione teologica, può aiutare meglio la riflessione teologica. Sicuramente la riflessione teologica deve aiutare la vita pastorale. Quindi due compiti ma che però devono andare a braccetto e arricchirsi continuamente proprio nei contesti storici che variano continuamente. Fra le novità anche del futuro anno accademico della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale anche proposte di scuole di alta formazione. Sì, abbiamo in sviluppo uno in teologia e arte che è già pronto e poi c'è un altro in ecumenismo che nasce, è un progetto, un processo abbastanza faticoso che però dovrebbero dare la possibilità di, come dire, di trasmettere i saperi della teologia anche attraverso una nuova formulazione o come si direbbe oggi una nuova declinazione. Questa è la parola più giusta. Grazie.